Palla regalata, qui rischiano, può andare da lì, 1 a 0, è arrivato subito il vantaggio. A metri a disposizione, ci provano di nuovo, ha segnato ed è un pareggio meritatissimo. Palla verticale, interessante. Botta, e c'è il gol, si riporta in vantaggio dunque. Atenzione, guarda, Piero. Atenzione, guarda, Piero.